Buongiorno! È arrivato finalmente Natale. Ieri siamo andati a letto tardissimo. Siamo rimasti svegli fino alle due e mezza e stamattina mi sono svegliata alle sette e mezza. Non so perché mai non riuscivo più a dormire. Siamo rimasta a letto così a contemplare subito fino alle nove. Adesso vengo a preparare perché andiamo a pranzo dalla nonna di Andrea, quindi a festeggiare per la sua famiglia. Allora, avrei voluto farmi un trucco super natalizio, super bello, ma devo muovermi perché devo anche farmi i capelli, quindi non riesco a fare qualcosa di più semplice e veloce. Sicuramente non ho voglia di mettermi rubi blu. Il rossetto rosso della maca è bellissimo perché è questo rosso stupendo, secondo me è tutto opaco. Voglia di qualcosa di più luminoso sugli occhi e sulle labbra qualcosa di chiaro. Perché è molto strano. Perché a Natale metto sempre, sempre, sempre il rossetto rosso e in particolare quel rossetto della maca. Io so che poi sicuramente ci sfonderemo anche oggi meglio non mettere il rossetto rosso perché o diventere un pagliaccio o finirebbe tutto sugli ultimi. Oggi sarà una bellissima giornata. Io adoro la nonna di Andrea. E poi questa volta c'è anche suo zio che vive a Dubai ed è stato troppo carino quando siamo andati a Dubai due anni fa, forse a settembre o un anno fa. Ci ha portato in giro a vedere tutta la città, ci ha portato fuori a mangiare in questo ristorante fantastico che è tipo il ristorante più antico della città. La sera del 25 è sempre la più pazza perché io, mia sorella e i miei genitori cominciamo a impazzire tra la musica, le risate. Mi ha dato che si fermasse il tempo, il giorno di Natale, che durasse, non dico tanto, ma una settimana. Sì, è stupendo. Pensi tutto quel tempo ad aspettare che arrivi e poi passa troppo in fretta, dura troppo poco, perché non viene solo per le lingue. Non c'è niente di meglio di svegliarsi la mattina di Natale affamati e trovare del salmone affumicato. Allora, a fine del mondo. Quando c'è ti ricapita di mangiare del salmone affumicato la mattina? Risultato finale di trucco ai capelli. Era tantissimo tempo che non li tenevo ricci. Ci stanno, mi piace. Spero, andando fuori adesso col freddo, che si sistemi un pochino. Cos'è il risultato del trucco? Ho messo un po' di umberetto bianco, un po' di marroncino e sulle labbra non sembra, ma dovrebbe essere un rosa, sembra più un marroncino. Outfit of the day, che c'entra come i cavoli, la merenda, con Natale. Ma oggi è così, scarponcioni, anfibi. No, non so, ma tutti gli altri avevo tipo oil rosso, le calze, qualcosa che ricordasse Natale, che fosse Natalizia. Comunque sì, anfibi, jeans. Il maglione forse è l'unica cosa a Natalizia. Che lana è grossa, morbido. L'altro avevano detto che avrebbe nevicato questo Natale tantissimo, come la nevicata del 85. L'85 qua da noi è stata devastante, no? In teoria. E invece... Doveva essere peggiore. Sì, e invece niente, fa freddissimo. Ma no, non credo che nevicherà. Però è stato bellissimo, Natale con la neve. Ma meglio così che col sole, secondo me. Non lo so, non lo vedo bene il sole, è Natale. No, Natale col sole non ci sta bene, a meno che tu non sia in montagna. Dove c'è già la neve, allora va bene. L'altro non siamo ancora andati in montagna. Né d'estate né d'inverno, forca miseria. Ma piace tantissimo anche l'estate, la montagna. L'estate è bellissimo, con i topolini, le giornate di sole, tutto il verde. Ti ricordi quando siamo andati qui? Anche l'inverno in un rifugio, con la cioccolata calda, con lo... Con un bombardino. Sono slittino. Andrè sta a sciare, ma io non so, ho fatto sciare. Oltre a non saper sciare, ho tantissima paura di farmi male. Perché il primo tentativo che ho fatto è andato malissimo. L'abbiamo fatto i due gli tentativi, è vero. Anche con il maestro, è andato molto male. Uno io e te, poi con il maestro, e poi hai detto va bene, va a faccio la ghi ghi. Un'esperienza terribile che non voglio ripetere mai più, no, 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 grazie. Questi occhiali ho notato da quando ho deciso di cominciare a metterli, rendano tutto meglio. Cioè, anche il trucco, anche se è un trucco semplicissimo, una semplice coda, come ce l'avevo questi giorni disordinata, prendevo l'elastico, me li tiravo su come erano, erano. Però sembra rendere il tutto molto meglio, il viso, i capelli, tutto questo schizzo in genere. Oh mio Dio, un'altra di quelle scene, no? Grazie. No, per favore, veramente. Un'altra che si melano in macchina, basta. Fai, filtri il brodo? Sto sgarasciando. Sto sgarasciando la strada. Cosa ci abbiamo cucinato qua di buono? Ci sono tre... Le verdure. Tre frigo, tre congelatori. Nonna, quanti ne hai ammazzati, hai detto, scusa? 20 galline, 3 occhi. Ma povere. 4 anatre e 4 caponi. Erano tutti loro, no? Cresciuti, come dire, con amore. Per poi tirare gli scordi. E poi buono, ragazzi. Però sono buoni, tante uova buone. Tante uova buone. E quando li mangi, non sono come... I polli e la roba di allevamento che c'ha, la carne che si stacca dalle osse da sola. Dite che da sbagliare. Fammi vedere qua. Ciao, ciao. Qua, qua, cosa abbiamo? Et voilà. Eccolo, uno. Questo come si chiamava? Questo chi? Questo è Gigi. Gigi. Buon bene, buon bene. Ciao, Arnaldo. Abbiamo il salame, questo è sempre vostro? Sì. Ecco. Solo il nostro. Il vino? Il vino è nostro. Tipo un culatino, no, cos'è? Di testa. Ah, il salame di testa. L'è assagliato. Sì, questo qua è saporitissimo. Oh, il più... Fegati, quello di... E' buono. Però il salcice è troppo buono. Ma questo? No, fegato. Questo possiamo mangiarle. Ok. Fegato? Fegato. Salame di fegato? Quelli sono da cotta, quelli sono da mangiare crudi. Questo invece è tipo un cotechino? Sì, il cotechino. Ok. Così sono tutti i creciatori. Meraviglia, io adoro questa casa. Va bene. Panettone gastronomico. Ho messo dei formaggi, uno formaggio base spalmabile, un altro spalmabile alle erbe e uno spalmabile al prosciutto. Poi ho usato della salsa cocktail, della maionese, prosciutto cotto, del salmone affumicato, delle uova di lompo, rosse e nere. Sembra buonissima. Le ho farcite in una maniera piuttosto abbondante, ecco. E qui ci sono i menticci, i ravioni e il prasato. Lo prendiamo adesso. Ciao tutti. Tutti i panettoni. Chi sai cosa direbbe sempre? Anche pancione, anche pancione. Lingua in salsa verde. Questa non è lingua in salsa verde. Questa l'ha fatta apposta per te. È lingua in salsa verde di mia nora. Tutto un prezzemolo, poi c'è un uovo sodo, un uovo sodo, un calcetto, cambori, sale. Ditti ma cosa succede? Quanta gente, quanta gente. Che c'è? Che c'è? Ecco Gigi, questa è la fine che ha fatto. Direi che con onore l'abbiamo messo in questo bel piattone. È immenso. Se guardate la dimensione di una mia mano, è quanto è grande il capone. Stiamo avendo dei grossi problemi con questo palettone gastronomico. Sì, l'abbiamo quasi finito. Perché non riusciamo a smetterle di mangiarlo. No, ce lo siamo scofanato tutto. Infatti c'è mia nonna. Uè, smettetela che c'è il capone. Chi è che lo mangia? Io adesso non so quanti ne mangiate, quanto di pene pelle. È eccezionale. Sì, spettacolo. Ma soprattutto volete capire. È troppo buono. Sai che cosa? Fa tantissimo la Philadelphia. Sì, la Philadelphia direi che proprio vince su tutto. Il salmone. L'uova di lompo. E le uova di lompo. Sì, sì. Sì, sì. Spettacolo. Che bel fiel. Va lì, che bel fiel. Modalità tuta attivata. Queste tutte sono state acquistate. In particolare, vedi questi bei pantaloncini. Guarda che carini. Per quando ero molto attivo in palestra, per quando facevo bodybuilding. Adesso stanno cominciando ad avere una certa importanza nell'uso quotidiano. Devo dire che mi stanno piacendo le tute. Viva le tute il pomeriggio di Natale. Sì. Posta buffata. Piedi come un uovo. Sì. Rovinati. Sì, siamo rovinati. L'ho mangiato benissimo. Ma c'è stata anche la mostardina alla fine. Dopo il panettone. Dopo il panettone. Dopo il caffè. Dopo il caffè, mostarda. Come da tradizione, inizia nei film natalizi. Vai, vai. Allora, in programma c'è Family Man, che abbiamo visto 375 volte. Sì, però ci sta sempre. Christmas Carol, che abbiamo visto 750 volte. Ha visto di più, addirittura. Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie. La spada nella roccia, che è bellissima. Allora, la spada nella roccia tra i film Disney sicuramente l'abbiamo visto di più. Perché ci viene più tantissima. Alice al secondo posto e Pinocchio al terzo. Pinocchio non l'abbiamo visto. Pinocchio non l'abbiamo visto tanto. E qua non c'è nell'elenco, ma c'è anche Biancaneve e Cenerentola. Biancaneve, sì. E Cenerentola con i topini. Cenerentola. Con i topini che cattano. La polizia. È arrivata, è arrivata, è arrivata. Cenerentola. Silenzio in sala, per favore. Abbiamo detto i topini, ma non voi. Non voi, non voi. I veri topini. Andiamo a toccare dentro. Voi non siete i topini, voi siete delle pesti. Voi siete dei ratti. Sì, voi siete dei brutti ratti. Delle pantegane, guarda una pantegana. Ehi, ma è Natale. Non litigate Natale. Spirito natalizio. Proprio zero. Spirito natalizio zero. Lotta proprio. Vi mordete al collo. Signore. Guarda lei ha le zampe corte, non riesce a tenerle lontano. Oh, madonna. Guarda quelle zampe. Cosa fai con quelle zampe? Andrea con la tuta a casa e non con i jeans. Questo è un miracolo. Cos'è successo? Miracolo di Natale. Parte la maratona? Parte la maratona con? Parte la maratona con Alice. Alice, una qualsiasi stanza tu ci metti 30 secondi al dolore. Tistella. Quelle 5 ore di sonno. Lui è russato. Sì. Immaginate cosa posso aver dormito io. Io proprio... Sai quando ti accorgi che russi? Proprio... Che fai proprio... Che quasi ti svegli da solo. Terzo round. Yeah. Del mangiare fino a star male. Cena della vigilia. Pranzo di Natale. Cena di Natale. E 26 pranzo e cena. Pranzo di 26 e poi ci sarà anche la cena del 26. Ok. Oh mio Dio. Noi non ci facciamo abbattere. Non ci arrendiamo. Ci squazziamo anzi in tutto questo cibo. Così proprio... Macchina fotografica. Dietro c'è anche il mitico Pandoro. Finalmente dopo 12 mesi. Cioè stasera. Oggi a pranzo i regali. E tutto l'occorrente per fare la crema di mascarpone. Wow tesoro. Sentate la corrente qua ma è più bello. Guarda. E' vero si vedono molto di più le luci. E la crema di mascarpone la fa sempre Andrea. Perché è bravissima. Tutti adorano la sua crema di mascarpone. Dobbiamo mettere... Appena arriviamo a casa da mia mamma. Pesseggiamo lì stasera. Dobbiamo mettere il Pandoro. No non sul calorifero. Mettiamo direttamente in forno. Si diventa bello. 50 gradi. Passiamo alle cozze gratinate. Stessa ricetta delle capesante di ieri. Direttamente da Bologna la lasagna. Ecco. Sei qua. Nini. Un bacio alla mamma. Dopolini. 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 Perché dobbiamo mangiare così fino ad ammazzarci amore? Camera del disagio. Questa è la disagio cam. La ultima volta che ho mangiato così tanto fino a non respirare è stata... Natale scorso? No, Licious. Pensoci. No, non mi viene in mente. No. È stato Mauricious. Adesso mi è venuto in mente Roatan. La mangiata di granchio. Ma Mauricious è stato quello più recente. Ah sì? Mmh. Emi. No, grazie. Mi servono i capelli, sai? Mangi i capelli alla mamma. Cosa dovremmo fare in questo caso? Acqua e limone? Mmh. Ti vorrebbe acqua e limone. O il digestivo? È presente quello effervescente? Stiamo mordendo il dito. Sì. Adesso credo che per cinque minuti forse riuscirò a guardare qualche film, vero? Cinque minuti ce la facciamo. Un paio di minuti. Un paio di minuti riusciremo a guardare un film. Prima di dormire all'essi. Sì, sì. Mi sento. Ahia. Cemi. Lei mi sa cosa di... Mi stavo riuscendo il dito. Tra l'altro visto che nel video precedente il vlog, quello della vigilia, ci sono stati dei problemi... Madonna. Ci sono stati dei problemi con l'audio. Porca miseria, che sfiga. Ma pensa te. Il problema c'è stato nell'esportazione del video. Sì, durante l'export. Il programma, esatto, durante l'export. Quindi quando l'abbiamo caricato, il video era già... aveva già questo problema. Danneggiato. Quindi d'ora in poi... Il nostro errore è stato nel controllare. Esatto. La lezione qual è? Prima di caricare un video, devo controllare. Una volta che l'ho esportato, devo controllare e poi caricarlo su YouTube. Così se c'è qualche problema, possiamo metterlo a posto. Se abbiamo provato, metterlo a posto, ma una volta che lo carichi, non puoi modificare la traccia del video, a meno che non sia un audio già provato da YouTube. Quindi dovrei mettere tipo una canzoncina durante tutto il video e poi non sentireste a quel punto ancora niente, ancora meno, no? Nulla più nulla. E non so quindi come... Adesso proverò a vedere se riesco smanettandoci a... Chi lo sa. Tra l'altro stanotte, perché ho finito di montare quel vlog, erano le due del mattino. Almeno, sì. Le due del mattino della vigilia. E quando ho montato la parte, quella dove stavamo ballando, no? Davanti all'albero, eravamo lì, giuro si è che Andrea, con le lacrime agli occhi. Due deficienti. Due deficienti. La mostra della chitarra. La mostra della bianca e si è... Sì, e poi l'altra parte che mi faceva morire da ridere era la mossa di Andrea che mi teneva in braccio e sembrava che io fossi un bebello e mi stesse donando. Sì, invece di ballare praticamente era... Oppa, oppa, di qua, di là. Ma poi questo è il topino. Dite a me che sono pazzo, ma voi siete più pazzi di me. Buono. Sermi. Sermi. Buonanotte. Mi ha chiuso la bocca. Si è messo a tossare la mia bocca. Ecco ancora, guarda. Mua! Qua! Si spinge contro le bocca. Ah, segni! Porca misera, quelle zampe. Quelle zampe. No, poi ci trova un occhio.